e aggiunse, rivolto ai socialisti che incalzavano il Governo, che era sì il tempo di ricostruire un legame intenso con ciò che non è la politica, ma che non si poteva accettare l'abdicazione della politica dalle proprie responsabilità e dalle proprie ragioni. È noto, lo sa bene Gian Battista Groli, che dalle consultazioni dei giorni precedenti era emerso il suo nome per quel Governo. Ma una volta che il suo partito aveva deciso altrimenti e che le cose avevano preso un'altra piega, se n'era fatta una ragione e aveva offerto a viso aperto la sua collaborazione. Così funzionavano allora i partiti, con vincoli di lealtà perfino più forti di quelli della disciplina e tanto più della convenienza. Martina Zoli fu un democristiano atipico, eccentrico, come lo ha definito Pierluigi Castagnetti. Fu un critico ironico e insofferente del sistema di cui faceva parte. E per un curioso paradosso della storia fu chiamato infine a cercare di rabberciare quel sistema, modificandolo in profondità, quando ormai il tempo dei possibili aggiornamenti era passato. Dal 1972 al 1994, in un lungo arco di vita parlamentare, attraversò l'ascesa e il declino di quella che ci si ostina a chiamare la Prima Repubblica. Eppure in tutti questi passaggi non smarrì mai il senso critico e disincantato con cui era solito misurare i sommovimenti della politica. E così, quando tutti si sentivano al riparo di un fortilizio che sembrava dovesse essere inespugnabile, Martina Zoli ne segnalava tutte le fragilità e i punti critici. E quando invece quel fortilizio veniva preso d'assalto da una sorta di demonizzazione corale e furente di tutte le nostre identità, lui metteva in guardia da un sentimento che a quel punto era diventato troppo facilmente e troppo inutilmente distruttivo. Amava dire che la vita era molto più della politica, ma in fondo la politica era la sua vita. E nella sua politica ha messo, credo, tanta vita. La sua è quella di tante persone a cui si è dedicato con l'amore ruvido e discreto di cui era singolarmente capace. Per la sua scelta di tirarsi in disparte è stato chiamato con poca carità il celestino quinto della storia democratica cristiana. Credo fosse una definizione particolarmente ingiusta. Ma se proprio si vuol confondere il sacro ed il profano, io penso piuttosto che di quella storia lui sia stato il Giovanni XXIII, solo che dopo di lui non c'è stato il concilio, non c'è stato per i democristiani, ma temo non ci sia stato in modo più ampio per tutta la nostra Repubblica. A Mino dobbiamo essere grati per avere almeno tentato. Grazie. Gerardo Bianco, voglio ricordare al segretario del Partito Popolare dal 95 al 96. Concludendo un finissimo discorso sulla famiglia nel febbraio del 1975, Martinazzoli citava un celebre poeta, Rilke, poeta paraghese dalle molte capacità e raffinati stili, e diceva «Scusate se qualche volta mi capita qui di riproporre citazioni un poco eccentriche, ma io credo più al sale dei poeti che non alla marmellata dei sociologi». Aggiungerei anche alla salsamenteria dei politologi. Riprendendo ancora il pensiero di Rilke, diceva «Egli ha detto che non ci sono risposte pronte alle diverse domande, ma l'importante è continuare a interrogarsi insieme, perché allora ci potrà capitare di entrare insieme nelle risposte». Mi pare che in questa frase ci sia molto della personalità di Milo Martinazzoli. Credo che tutti possano convenire che la personalità di Martinazzoli si riflette molto nel suo linguaggio. Non è una idea originale, ne hanno scritto con grande finezza nella introduzione Corsini e anche l'amico Castagnetti. Ma è appunto in questa inquietudine di ricercare la parola giusta, che non era una ricerca stilistica, era il tentativo di cogliere la realtà nel suo movimento. C'è una frase anche qui, direi sintomatica, che dice quello che era lo stile e la forza intellettuale di Martinazzoli, cercare la storia per come si muove. Ed è da questa ricerca costante di cogliere il reale che lui non amava scrivere, ecco perché anch'io per essergli fedele ho in quel momento deciso di prendere la parola senza avere lo scritto. Lo dice appunto Castagnetti, amava la parola, grande difficoltà nello scrivere, sottolineature, scritture, ripensamenti. Era un personaggio che cercava di capire quella che era la realtà per raccoglierla nella sua interezza, ma aveva un elemento che era estremamente indicativo ed è stato già qui sottolineato. Era il dubbio che accompagnava la ricerca ed era quel dubbio che creava poi il limite della politica. Qui c'entra Manzoni, il limite dell'ideale. Il limite non è, come oggi si può anche intendere, una cosa che restringe la realtà e la riduce e la semplifica. Il limite è la consapevolezza che c'è qualcosa di altro, che è qualcosa che può sovra avanzare quello che viene interpretato. E questo è estremamente importante perché dà alla politica la forza dei confini e quindi anche la capacità di indirizzare la politica verso obiettivi che sono quelli che devono essere raggiunti. Un'esperienza democratica che è stata arricchita moltissimo dal linguaggio e dal fascino della parola di Martino Azzoli. Tutti abbiamo vissuto i congressi e anche quello che noi vivevamo nella Camera. Quando parlava Martino Azzoli, come sottolinea Castagnetti, si riversavano all'interno dell'Aula quelli che mi amavano ascoltarmi. C'era dentro un'esperienza politica che si era consumata anche nella conoscenza del suo territorio. Direi che si portava dentro quello che era l'elemento costitutivo della cultura esistente nella città di Brescia. C'era dietro una cultura che aveva anche, come dire, la forte caratura teologica. Non è un caso, e qui mi pare di poter dare un'altra indicazione del suo senso della parola. conosceva la Bibbia. Conosceva la Bibbia, era un grande lettore della Bibbia. Sentiva quindi il valore che la parola ha nella Bibbia. Un esempio è una testimonianza in quel bellissimo libro che è appunto l'elogio di Nicodemo, dove egli scopre la figura enigmatica di questo personaggio. C'era certezza cristiana, c'era forza. Ed è interessante che proprio in uno scritto che lui dedica a Moro, subito dopo la tragedia di Aldo Moro, comincia questo scritto con queste parole. Nutriva più dubbi perché aveva alcune certezze. Mi pare che questa espressione possa anche essere riferita allo stesso Martinazzoli. Aveva dubbi, ma aveva alcune certezze. Perché uno degli elementi fondamentali è riscoprire, lungo tutti i discorsi di Martinazzoli, una forza, una convinzione profonda. Lo hanno definito in vario modo. Ma poi devo dire che non mi piace quella definizione di Martinazzoli, uno strano democristiano. Perché lui ha rivendicato di essere democristiano sempre. Era un democristiano convinto. Questo è l'elemento che caratterizza la democrazia cristiana, dove c'era la varietà degli elementi, i dati che contrastavano non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista caratteriale. Tutti si convivivano perché comune era la cifra che rendeva uniti la democrazia cristiana. Una grande cultura, il popolarismo e naturalmente il degasperismo. Ci sono quindi elementi che creavano il legame. Lui li rivendica. Non dimentichiamo il discorso che fece alla fondazione del Partito Popolare. Io lo accompagnai, ero capogruppo. Non eravamo d'accordo su tutto. Non eravamo d'accordo sui passaggi. Ma quello che mi convinceva era la sua fede, che si potesse avviare un nuovo cammino. Era il suo convincimento che il Parlamento rimaneva il cuore nel quale dovevano essere risolte le grandi crisi che erano aperte nella società italiana. Ebbe profondo il senso del Parlamento. Ebbe profondo il senso della dignità dei parlamentari. Si rileggono alcuni amici il discorso un po' forse limitato, può sembrare, su quello che è il problema della dichiarazione dei redditi del patrimonio, per rivendicare come egli aveva alto il senso della dignità del Parlamento e dei parlamentari, perché nel momento in cui si riduce la dignità del parlamentare, si riduce anche la dignità del Parlamento. Ebbe quindi accetto subito il tuo richiamo. Ma voglio solo aggiungere qualcosa. Vorrei dire che è troppo complessa la sua personalità. Deve essere oggetto di approfonditi studi, di ricerche e di ulteriori approfondimenti. È una miniera, potremmo estrarre un pro rileggio. Ma vorrei solo, per dir così a chiusura, ricordare questo. Nel 1880, un grande intellettuale italiano, Francesco De Santis, di cui quest'anno ricorre il bicentenario, in un discorso a Chieti diceva che i discorsi dei deputati formano l'educazione politica degli elettori, alzano il livello intellettuale e morale. Tutto ciò che gli elettori danno alla parola è tolto ai maneggi e ai lavori occulti ed allargano orizzonte. Mette in evidenza l'immagine della patria, avvezza il lettore a guardare, attraverso lo suo campanile, gli interessi nazionali. I discorsi di Martina Razzoli vanno in questa direzione, creano punti di riferimento, sono punti saldi di valori e di certezze, ma anche il dubbio che le cose devono essere continuamente sottoposte ad un controllo. Vorrei che questa lezione valesse anche per i deputati attuali. Castagnetti per l'intervento conclusivo. Sì, essendo l'ultimo della serie degli interventi, consentite anche a me di ringraziare Gian Battista Groli perché ha organizzato questa manifestazione che è veramente molto bella e risultata anche molto interessante. Ormai incontri per ricordare Martina Razzoli ne abbiamo fatti tanti, ma questo insomma mi pare anch'esso molto interessante. Quando si profilò per l'elezione del presidente del gruppo, la candidatura di Mino Martina Razzoli, scrive Adolfo Sarti nel suo Il divano di Montecitorio, i cronisti che frequentano volentieri gli onorevoli ozieggianti sui divani di Montecitorio, domandarono anche a me un'opinione sul candidato e sulle sue caratteristiche dominanti. Non so bene perché mi sfuggì una battuta come questa, non più fatti ma parole, purché siano ben dette. Il senso della battuta doveva essere chiaro almeno ai miei occhi. In Parlamento occorre pure chi sappia parlare e l'arrivo di Mino in una stagione oratoria priva di convincenti bagliori doveva essere salutata anche sotto questo profilo come una salutare novità. Ma Mino come l'avrebbe presa? Mino lo incontrai il giorno dopo in transatlantico, mi venne incontro con il più solare ed estasiato dei sorrisi, cosa insolita in uno dei leader meno sorridenti della politica italiana, e mi ringraziò. In effetti Sarti non conosceva bene Mino e non sospettava allora che questa, che a prima vista poteva essere interpretata come una riserva nei suoi confronti, per lui invece rappresentava un apprezzamento. Nella sua introduzione ai discorsi di Moro, pochi anni dopo, scriverà infatti, Moro credeva al senso e al valore delle parole. Voglio dire di più, per Moro il senso primario della politica non era fare le cose, quanto pensare le cose e dire le cose. Le cose si fanno da sé, nel libero di spiegarsi della vitalità sociale e politica in un moto senza fine. Fine della citazione. C'era in questa valutazione una inconsapevole, io penso, proiezione di sé, o quantomeno di ciò che Martinazzoli riteneva dovesse essere la responsabilità e il procedere della politica. Il pensiero innanzitutto. La parola adeguata a esprimerlo e a comunicarlo. Il fatto che inesorabilmente si determinerà poi. Perciò la scelta delle parole aveva in sé, è già stato detto da tanti interventi, per lui una pregnanza etica e fattuale. Insomma, il capovolgimento di un paradigma molto in voga anche in quei tempi meno convulsi, pragmatici e frettolosi degli attuali. Per Martinazzoli, che parlava preferibilmente a braccio dopo un'abbastanza lunga ruminazione mentale del pensiero, come per Moro, che invece preferiva leggere testi elaborati con il gusto della precisione e persino del cesello, la parola aveva in sé il carico della responsabilità e della irreversibilità. Quando era detta, era detta, per sempre. In ciò consisteva, a mio avviso, il fascino del suo linguaggio, denso e profondo, una parola che pretendeva fatica in chi la pronunciava e in chi l'ascoltava. Questo è ciò che si coglie in tutti i discorsi parlamentari raccolti nel libro che presentiamo. Leggendoli e rileggendoli emerge anche un altro dato. In quel tempo il Parlamento era ancora il luogo in cui si faceva la politica. La si dirigeva, la si orientava e la si vigilava. Nel Parlamento, la cui crisi pure era già cominciata, si avvertiva il collegamento con la storia, sì, la grande storia, per merito sicuramente delle straordinarie personalità che vi operavano. Non è il caso di fare nomi, perché sono tutti i nomi che avevano fatto la Repubblica. Ma basta citare solo gli interlocutori di Martinazzoli che seguivano con lui i problemi della giustizia. Da Terracini a Vassalli, da Carraro a Bettiol, da Gallo a Elia. Perché, mi chiedo ancora oggi, il grande esperto di psicologia sociale, Gabriele Calvi, in uno studio accurato e molto approfondito, ha definito Martinazzoli il leader più empatico degli ultimi decenni. Sicuramente, anche per il suo linguaggio, così scevro da ridondanze banali e da compiacenze verso chi lo ascoltava, potremmo dire così altro rispetto allo spirito anche all'ora del tempo. Forse colpiva pure l'amitezza, se ne è già parlato, aspetto su cui ebbe a discutere e anche a polemizzare, sia con Bobbio che con Firpo, e il senso del limite della politica che aveva appreso sin da ragazzo da un illustre bresciano, Stefano Bazzoli, fraterno amico di Concetto Marchesi all'Assemblea Costituente. E forse, infine, anche per quella sua faccia un po' così, severa, modesta, colma di righe che la faceva assomigliare tanto a quella di Zaccanini e a quella di Berlinguer. L'empatia, insomma, non nasce dall'essere come la gente, ma dall'apparire alla gente come si dovrebbe essere. Perché? A me pare che questa sia la spiegazione della definizione di Gabriele Cardi. Fra i tanti interventi parlamentari, quelli politicamente più importanti sono gli ultimi, attraverso i quali Martinazzoli cercò di parlamentarizzare la discussione sulla crisi del sistema. Interventi che gli procurarono anche non poche incomprensioni tra le file dei colleghi di partito, di cui fu infine segretario, eletto per disperazione, come amava ripetere, poiché supposto colpevole di non averli salvati. Martinazzoli, in effetti, puntò a salvare l'idea democratico-cristiana in quel crogiolo di passioni, isterismi collettivi e provvedimenti giudiziari non di rado assai discutibili, che sembrava non risparmiare nessuno, mosso da un principio, che in altra sede, Gustav Mahler, declinò nel seguente modo decisamente icastico. Salvare la tradizione significa conservare il fuoco delle origini, non adorare le ceneri. Ecco, Martinazzoli cercò, anche con il cambio del nome del partito, di ricostruire la fedeltà al fuoco delle origini, purtroppo con risultati controversi, per responsabilità di tanti. Gli esiti caotici di quella stagione indussono infatti Martinazzoli a cercare di salvare il salvabile, come si diceva allora, scegliendo di riscoprire la vocazione programmatica sturziana, sostituendola, poiché ormai i tempi lo consentivano, alla vocazione governativa. De Gasperiana. Ma non meno importanti sono anche i discorsi su tematiche allora inedite, che in seguito abbiamo imparato a definire come eticamente sensibili. In quel tempo in Parlamento non vi erano molti interlocutori disposti a confrontarsi con la democrazia cristiana su argomenti la cui portata politica ai più era sconosciuta, ancora sconosciuta. Erano temi che segnalavano il passaggio a una fase storica in cui i valori soggettivi diventano centrali e i precedenti valori prevalentemente economici entravano in crisi. Lui stesso riprese il discorso nell'ultima parte della sua vita nella già citata intervista con Anna Chiara Valle, anche se non lo vedrò, tornerò a un tempo meno inclemente per questi semi della nostra storia. Concluge. Ebbene, oggi diversi intellettuali escono finalmente, entro nel presente intenzionalmente, dall'apnea e cercano di aiutarci, di aiutare l'uomo di questo tempo a capire cosa sta capitando alle nostre democrazie, impaurite dalla crisi di rappresentanza e dall'esplosione della rabbia che definiamo populistica, che non riusciamo ancora a mettere a fuoco. Penso in particolare, fra i tanti, agli ultimi lavori di Ulrich Beck e Peter Berger. Galileo, scrive Beck nella Metamorfosi del Mondo, scoprì che non è il Sole a girare attorno alla Terra, ma la Terra attorno al Sole. Oggi siamo in una situazione diversa, ma per certi versi simili. Il rischio climatico, ad esempio, ci insegna che la nazione non è il centro del mondo. Il mondo non gira intorno alla nazione, sono le nazioni a girare intorno a quelle due nuove stelle fisse che sono il mondo e l'umanità. E a proposito di un tema più specifico, di cui giustamente si parla molto anche in questi giorni, in cui le statistiche del lista ci pongono dei dati su cui riflettere, il tema della generatività, osserverà Beck che per la prima volta nella storia dell'uomo la tecnologia medica può spezzare la naturale unità di concepimento, gravidanza e nascita, separandoli nello spazio e nel tempo a livello sociale. Concludendo, in vent'anni ci piaccia o no, sono scomparsi punti di riferimento millenari. Mentre Berger, nei molti altari della modernità, ritrattando in modo anche clamoroso quanto aveva scritto ai tempi della secolarizzazione trionfante, analizza il ritorno in campo delle religioni, viste anche come possibilità di difesa rispetto all'esplosione di una modernità senza anima. A tale proposito viene nella mente quanto diceva Robert Musil, secondo cui non è che abbiamo troppo intelletto e troppo troppa poca anima, ma semmai che adoperiamo troppo poco intelletto nelle questioni dell'anima. A me pare che questo sia il problema più impegnativo della politica, che Martina Zoglia aveva intuito con precisione, cioè capire l'anima della gente, le sue paure, i suoi sordimenti, la sua domanda di luce rivolta alla politica, domanda che solo quando non è ascoltata si trasforma in rabbia e dunque in reazione populistica. Ci fossero personalità come Moro e Martinazzoli, capaci di guardare lontano, non un orizzonte astratto, ma concreto e umano, con il coraggio di apparire in politici mentre esprimevano il massimo di politicità. Rischiamo infatti oggi, tutti, di somigliare a quei marinai inetti che, come diceva Tocqueville, si ostinano a fissare le rovine ancora visibili sulla spiaggia da cui siamo partiti, mentre la corrente ci porta via e ci trassina verso l'abisso. Grazie. Grazie a tutti. Ci vediamo, ci vediamo a presto. Grazie. Grazie. Grazie.